Allora diamo il migliorato a Ludovica, velocemente Ludovica innanzitutto ciao buonasera Ciao Ciao Come vivi tu questa situazione? Sono us Cioè nel senso Com'è avere un padre come Stefano dai Quanti amici ti hanno cancellata da Facebook? O quanti si sono aggiunti? Aggiunti quotidianamente Grazie, grazie a successo Come va? Ma va che fa così con il brazzo Com'è avere come padre una persona come Stefano? Ricordati sempre Senti la minaccia C'è sempre stato così Quindi io sono abituata ad averlo così In realtà tu hai i video in preview a casa E poi dopo quello che passa E così in realtà Non è costruito, confermi questa cosa E ti manda a chi a te i clipini del mattino? Cioè in un senso di positività te la dono anche a te tutte le mattine Io non ero tra quei cinque ma in quello dopo ero tra quei cinque Certo Stefano come procede il video delle tue riprese per tua figlia Per Ludovica all'interno dei nostri studio Ma è un video, è un video snauz Sicuramente È un video snauz? È un video snauz? È un video snauz? Ci racconti cos'è snauz? È però eh È snauz? Nel frattempo ci ascoltiamo Max Pezzali Questa è il Cowboy non mollano mai Mai Viva la vita Tutta la vita Stuve 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 Stavo parlando Ti devi parlare Quando chiude C'è ancora un secondo di Ti devi incazzare nel secondo di sto malazionante C'è allenato Si allenato Si cazza Scusate Occhio che è un matto scatenato questo Non ho mai visto fare grandi cose alle persone normali Mai Ringraziando Dio Bella per voi Grazie ragazzi Grazie